In tutti questi anni abbiamo spesso anche suonato diversi brani di Sting e dei Police, in particolare Wrapped Around Your Finger, Every Little Thing She Does Is Magic, Consider Me Gone, però non avevamo mai pensato prima d'ora a fare un disco interamente di brani di Sting e dei Police. Con questo progetto che ha in trio con Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra, cioè il Piero Frassi Circles trio, abbiamo pensato a un progetto monografico e quindi ci è venuto in mente questo tributo a uno degli autori toscano d'adozione più importanti del pop dalla fine degli anni 70 d'ora. Abbiamo appena finito di registrare questo lavoro sulla musica di Sting, Police e non solo, e il terzo cd registrato in questo bellissimo studio di Areggio, Gianni Vini, il primo Skydiver con Nico Gori ospite e Karima, il secondo con sempre il trio più Greta Miral. Questo sarà il terzo, felicissimo, spero vi piaccia, che dire? È giusto, mi sembra un ottimo incipit, è l'accordo che fa sempre Piero quando suona con noi. Sì, è vero, è da questo accordo che poi si sviluppano tutte le idee che caratterizzano questo trio meraviglioso. È già il terzo disco che facciamo. Sì, il terzo disco. E poi adesso questo disco appena eseguito. Appena ultimate le registrazioni. Con Michela Lombardi, su la musica di Sting, però c'è sempre questo accordo necessario. Devo dire che con Piero è stato amore a prima vista, perché secondo me lui è veramente uno dei geni della musica contemporanea. Lui registra qua i suoi album, io lo coinvolgo in sessioni di pianoforte, di pianoforte elettrico per i miei progetti. E questo ci sta legando un po' a doppio filo, perché ognuno dà il meglio non solo per se stesso, ma anche per i progetti dell'altro. Quindi io spero che questa collaborazione che è cominciata e che sta andando a gonfiare le duri il più a lungo possibile, perché è una cosa che fa bene a me, spero faccio bene a lui, ma soprattutto fa bene alla musica. Con Gabriele avevamo già registrato due dischi, uno dedicato a Johnny Mandel e l'altro a Michelle Legrand. E quindi in studio è stato tutto quasi buono la prima. Niente, che altro dire? Siamo contenti. Siamo molto felici, sì. Poi io e Bernardo siamo molto amici, nonché nella vita e nella musica. Suoniamo insieme da una vita e suonare con Piero è una cosa meravigliosa. Si crea un interplay speciale. Piero è un pianista unambolico, virtuoso. Piero è un pianista unambolico, virtuoso. Piero è un pianista unambolico, virtuoso. Piero è un pianista unambolico.